Vinciamo 3-0 contro il Leicester. Io prima di iniziare a parlare della partita voglio fare i complimenti a un giocatore della squadra avversaria, un giocatore del Leicester, Fatau, o come Madonna si pronuncia, che a me è piaciuto veramente tantissimo. È un ragazzo che sto seguendo da inizio stagione, mi aveva sorpreso tantissimo nelle primissime partite, soprattutto quella contro il Tottenham dove ha veramente fatto il devasto e oggi è stato incredibile. Veramente oggi ha creato tantissime azioni pericolose, ha letteralmente cercato di trascinare il Leicester, quindi io voglio fare i complimenti a questo ragazzo perché mi ha sorpreso, mi ha veramente sorpreso se dovesse continuare così, credo che la Premier League avrà un altro giovane talento da dover osservare attentamente. Ora tornando a noi, vinciamo 3-0, abbiamo dominato. Ok, non siamo stati coerenti nei 90 minuti, bisogna essere sinceri perché abbiamo avuto dei periodi durante la partita dove ci siamo spenti, dove comunque sì abbiamo regalato delle occasioni, abbiamo regalato il pallone al Leicester, abbiamo regalato il possesso al Leicester, ma in generale ragazzi la partita è stata letteralmente dominata da noi. Noi abbiamo surclassato la squadra avversaria, abbiamo giocato addirittura meglio della partita di Coppa perché in molti dicevano avete vinto sì 4-2, 5-2 contro il Leicester, ma il Leicester giocava con le seconde linee. Bene, oggi con le prime linee le abbiamo letteralmente disintegrati perché oggi abbiamo giocato, ripeto, molto meglio della partita di Coppa. Allora, ci sono ovviamente degli aspetti negativi che vanno messi insieme al fatto che siamo incoerenti nei 90 minuti. Il primo aspetto negativo è Rasmus Oilund. Anche oggi io l'ho visto letteralmente fuori dagli schemi. Ha fatto qualche tocco positivo, sufficiente, qualche sponda ben assistita. In alcuni frangenti mi è piaciuto, ma nella maggior parte dei casi mi sembra veramente un ragazzo che sta vivendo un periodo di forma molto brutto. Un momento psicologico molto brutto. Io spero con tutto il cuore che Ruben Amorì riesca a lavorarci perché per me il problema di Oilund è più un fattore mentale. L'avevo visto anche l'anno scorso. In Champions faceva gli sfracelli perché forse le aspettative su di lui in quella competizione erano veramente bassissime. In Premier League invece faticava. Cioè in Champions segnava il Bayern Monaco al Gata Sarai, segnava in continuazione, ma in campionato, nel weekend, non riusciva a segnare. Non riusciva a sbloccarsi. Sta ritornando a vivere quel momento dove non riesce a trovare il gol. Vuoi per colpa sua, per dei movimenti sbagliati. Vuoi perché la squadra non lo mette nelle giuste condizioni di tirare in porta. Non riesce, capito? Si trova in una situazione, in un momento psicologico dove si agita. Arriva un momento della partita dove non riesce, vedete, che non riesce a tirare, non riesce a creare, non riesce a costruire. E quindi si mette ancora più pressione da solo. Quindi io spero vivamente che Ruben Amorì possa lavorare su questo ragazzo, possa migliorarlo, soprattutto sull'aspetto psicologico. Scusate tutte queste mosche, ma ho aperto la finestra e mi è entrata la famiglia delle mosche. Ci ne staranno 7-8, non capisco il perché. Ma vabbè. Poi, un altro aspetto, però questo ovviamente positivo, è la prestazione di Ahmad Diallo. Lo sapete, lo sapete, io lo dico da inizio stagione. Non sono ancora convinto al 100% che questo ragazzo possa giocare titolare nel Manchester United perché in alcuni frangenti, guardate le mosche, guardate le mosche, in alcuni frangenti sbaglia, commette degli errori, anche banali, ma quando è in giornata, quando è concentrato, e bisogna dirlo, da quando in panchina c'è Van Nisteroid che gli sta dando minutaggio, Ahmad Diallo è uno spettacolo per gli occhi. Cioè, oggi, per quanto Bruno abbia realizzato due reti, ok, forse uno era un autogol, però comunque sia, ha realizzato per me due reti, per quanto abbia creato tantissimi pericoli, oggi per me uno dei migliori in campo, se non il migliori in campo, e forse ve l'ho spoilerato per le pagelle, è proprio Ahmad Diallo. Cioè, raga, è stato ingiocabile oggi, ingiocabile, ingiocabile. Io credo che questo ragazzo, se Amorì, dovesse dargli la titolarità in quella posizione nel 343, quindi esterno destro, potremmo veramente divertirci, perché è un giocatore che salta l'uomo, è un giocatore che palla al piede, è divertente da vedere, è un giocatore con delle caratteristiche molto, molto performanti in un campionato come quello della Premier League. Capiremo poi quale sarà la scelta di Ruben Amorì, ma io spero vivamente che il Manchester United dia la possibilità a questo ragazzo di dimostrare il suo valore, perché è scadenza di contratto e non ci possiamo permettere di perderlo a zero, ma non possiamo proprio permetterci di perderlo. Altra prestazione da citare, che ho già detto in precedenza, è quella di Bruno Fernandes, essenzialmente il giocatore più forte della squadra, il giocatore cardine del nostro reparto offensivo, ha segnato due gol, uno forse era un autogol, ma per me sono due gol di Bruno, prestazione senza senso, 250 partite con la maglia del Manchester United, numeri esorbitanti. Da quando è andato via Eric Tenag ha fatto cinque partite, non so se quattro gol e due assist, visto pure cinque gol e tre assist, non ricordo ragazzi, sono numeri senza senso, è in netta ripresa, questo è anche perché Bruno è un giocatore che quando inizia la stagione va sempre un po' a rallentatore, poi si va ad attivare nel mentre, nello svolgimento della stagione stessa, quindi un po' me lo aspettavo che piano piano il giocatore si sarebbe sbloccato, bisogna dire però che con l'addio di Tenag sembra un altro giocatore, perché gioca molto più avanzato, poi ha sempre questi momenti dove si accende, si spegne, si accende, si spegne, ma anche lui nota estremamente positiva, positivo anche il centrocampo, Casemiro Ugarte, che ci sta dando solidità e soprattutto ci sta dando qualità. E questa è la domanda, questa è una domanda che io vorrei porgere, vorrei fare ad Eric Tenag se lo trovassi qui in questo momento davanti a me. Per quale motivo Eric non hai dato mai la possibilità a Ugarte di giocare con Casemiro in maniera coerente, in maniera costante? Per quale motivo? La scusante che utilizzavano gli analisti, le persone che analizzano il calcio in Inghilterra, era Casemiro Ugarte sono due difensori, due centrocampisti di rottura, quindi non possono giocare insieme perché non hanno le qualità per far avanzare la squadra. Purtroppo per me non è mai stato così, soprattutto per Casemiro. Casemiro ragazzi ha dei piedi che sono educatissimi, io sono mesi che cerco di farvelo capire, io sono mesi che cerco di far capire alla gente che Casemiro non è più un 6, ma è un 8, non è più un giocatore difensivo, è un giocatore di spinta, in difesa si comporta bene, anche oggi si è comportato estremamente bene, ma nel lato di gestione è veramente un regista a tutti gli effetti. Ha dei piedi, ripeto, educatissimi. Perché non è stata data la possibilità a questi due giocatori di giocare insieme? Perché oggi hanno specchiato e hanno disintegrato il gioco dell'Eister, ma l'hanno fatto anche contro il Chelsea, cioè non è che l'hanno fatto solo contro le squadre di livello basso, hanno letteralmente annullato l'Aiva e il Caicedo, gli hanno specchiati, non gli hanno fatto fare nulla di pericoloso, non gli hanno fatto costruire nulla. Quindi io non capisco perché non dargli questa opportunità, perché non gli è stata data l'opportunità? Io credo che Amori avrà sulle mani una decisione molto complicata, perché a centrocampo rientrerà pure Kobe, e quindi in questo fantomatico, se giocheremo con questo fantomatico 3-4-3, chi giocherà a centrocampo? Perché se poi lì davanti tu hai Oilund prima punta, Diallo sulla destra, a sinistra o metti Bruno o metti Rashford o metti Carnaccio, a centrocampo hai Kobe, su due ruoli hai Kobe, Eriksen, Casemiro e anche lo stesso Mason Mount, che potresti fare giocare più avanzato, hai veramente tantissime scelte, quindi Ruben Amori dovrà prendere una decisione che farà incazzare molti e farà invece gioire altri, perché ovviamente se verrà scattato Rashford, molti saranno contenti, altri invece no, se verrà invece scattato Carnaccio, per esempio io mi incazzerei, perché anche oggi Carnaccio è entrato affatto male, ha fatto malissimo, è entrato, ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, poi ho avuto un'occasione, un'occasione ha avuto, importante, l'ha segnata, a vent'anni, questo è un giocatore estremamente cinico, ed è un giocatore che non sta vivendo un bel periodo di forma, a livello di prestazioni in campo, eppure ha dei numeri che non hanno senso, non hanno veramente senso in questo inizio di stagione, oggi ha realizzato un gol incredibile, poi difesa, io basta, smetto di parlare del terzino marocchino, perché ormai ho finito le parole, ho veramente finito le parole per parlare di questo giocatore, insensato, un ragazzo che si impegna ogni partita, che del massimo, io spero ovviamente che questo non sia solo un periodo fortunato per lui, un periodo iniziale buono, io spero che possa continuare, perché seriamente sta scalando le classifiche, la gente si sta rendendo conto, io mi sto rendendo conto dell'errore che ho fatto un paio di mesi fa, quando ho dato un voto basso all'acquisto, perché in questo momento è il miglior acquisto di questa sessione estiva, anche Ugarte sta scalando piano piano la classifica, ma Masauri non ha un senso logico, poi difesa, Alessandro mi è piaciuto in alcuni contesti, in altri un po' meno, De Ligt mi è piaciuto molto, molto solido, si è comportato bene, Dalot continua a non piacermi, Onana, ennesimo, Kliscitt, Onana in questo momento è il portiere con la porta, che ha mantenuto più volte la porta inviolata in Premier League, io questo vorrei mandatelo a chi, ha sempre criticato Onana, dicendo che non era adatto per il Manchester United, ed oggi non è che ha dovuto fare dei miracoli, parliamoci chiaro, oggi ha fatto solo una parata importante, ha evitato il pallonetto dell'attaccante dell'Eister, però c'è, quando viene chiamato in causa c'è, risponde bene, ennesimo, Kliscitt, ottima prestazione, molto solido, non commette più quelle piccole sbavature, che anche l'anno scorso, nella seconda parte della stagione, un po' ci facevano tremano, quelle parate un po' clandestine, che rimetteva la palla in posizioni pericolose, stavolta sempre, quest'anno sempre concentrato, interventi sempre ben messo in caso, cioè, non ho nulla da dire neanche a Onana, veramente, oggi non ho nulla da dire a nessuno, a parte a Rashford e a Oilund, Ionic2 e Dalot, vi ripeto, a me non mi sta convincendo, ma ha fatto un po' una prestazione sufficiente, Rashford e Oilund invece, sono stati, delle brutte note negative, veramente brutte note negative, io non so cosa stia succedendo a Rashford, perché le prestazioni, io quest'anno è più le volte che l'ho salvato, che le volte che l'ho bucciato, lo sapete, se seguite le pacelle, sapete che a me quest'inizio di stagione di Rashford non mi è dispiaciuto, ma lui non incide, anche quando giocava bene, quando ha giocato bene in quest'inizio, non ha mai inciso pesantemente sulle prestazioni, partite, quindi io ho paura, che non si riesca più a riprendere, cioè è quella la mia paura più grande, perché noi adesso, per riuscire a recuperare, perché noi adesso dobbiamo correre, cioè non ci stanno sclusanti, io mi dispiace dirlo, per amorì, perché ha 39 anni, ma lui deve entrare all'interno del Manchester United, con un obiettivo, rincorrere, e non è mai facile, quando sei tu che devi rincorrere gli altri, non è mai facile, perché sei costretto a non sbagliare mai, quando invece viene rincorso, ti puoi anche permettere, qualche piccola sbavatura, quando invece sei tu che devi rincorrere, non puoi sbagliare, le prossime per Amorì sono micidiali, abbiamo la neopromossa, che oggi, se non erro, ha abbattuto, si ha abbattuto il Tottenham, in casa del Tottenham, poi abbiamo l'Arsenal, poi c'è anche il City, cioè le prime cinque partite di Amorì, in Premier League, sono estremamente fondamentali, perché ci sono degli scontri diretti, che lo United non può perdere, perché purtroppo non li può perdere, questi scontri, con Arsenal e City, e so che sto chiedendo ad Amorì un'impresa, so che sto chiedendo all'allenatore portoghese un qualcosa di veramente difficile, ma se vogliamo seriamente rialzare la nostra stagione in Premier League, perché poi l'Europa League, le Coppe inglesi sono un discorso a parte, perché l'Europa League ha altre quattro partite da giocare, ti basta fare il tuo, perché le squadre avversarie sono di basso livello, quindi se fai il tuo ti qualifichi, poi ne riparleremo per eventualmente i sedicesimi, o gli ottavi di finale, le Coppe ha il Tottenham, poi ne parleremo, ma in questo momento lo United ha un obiettivo in Premier League molto importante, che è quello di cercare di riacchiappare quelle che stanno là, che stanno giocando male ragazzi, cioè noi in questo inizio di stagione, abbiamo fatto veramente molto male, ma la nostra distanza con la quarta è di quattro punti, e la quarta è il Brighton, la terza oggi ha perso il Nottingham, ma era il Nottingham, cioè capite bene che le squadre che ci stanno sopra, sì c'è anche l'Arsenal, il Chelsea e tutto quanto, ma non sono squadre irrecuperabili, cioè sono squadre che prima o poi avranno un tracollo, durante la stagione, il problema è che tu non lo puoi avere più questo tracollo, perché lo hai avuto all'inizio, quindi adesso, madonna se mosche, ma che è? Quindi adesso, eh il lavoro è tosto raga, oggi però non ho nulla da dire, mi sono piaciuti tutti, come ho detto a parte quei due, tre cottalo, mi è piaciuta la partita gestita dalla leggenda in panchina, un uomo di un livello e di una classe senza senso, ha provato in tutti i modi a rialzare la nostra stagione, e ci è riuscito, ha dato da morire le chiavi un po' più belle esteticamente, c'ho sta mosca porco zio che sta lì, mo ti dico un cazzotto al monitor lo sfondo, quindi io sono contento raga, non me lamento, adesso però riposiamoci, per questa pausa nazionale parleremo in questi giorni da morire, tutto quello che dobbiamo, perché dobbiamo parlare di tante cose, e poi inizierà finalmente la nostra stagione, detto ciò, io vi ringrazio per la visione, e alla prossima gente!